cioè salve sì che senso ha questo salve così ma mi capisco cioè capito noi torniamo su youtube dopo tutto questo tempo voglio fare qualcosa di simpatico salve è come dire wow domani saluto in maniera diversa buongiorno wow ma noi c'è ragazzi perché seguite gli altri canali youtube noi siamo originali perché siamo originali perché per salutare in maniera diversa diciamo ciao cattivo mi tratti male sempre no tu ridi io sono offensissimo ora piano no seriamente c'è inizia sto video stanno dicendo questi due coglioni che cosa si capisce da questo c'è pure il titolo se visto quello che stiamo dicendo fin ad ora come titolo poi anche metterci tutti con interrogativi non sappiamo nemmeno noi che cos'è questa cosa ma che cos'è questa mi piace sto stadio bello mi piace dunque hashtag mi piace dunque noi siamo stati assenti per tanto tempo perché in effetti entrambi abbiamo avuto un bel po di problemucci e dei periodi molto molto impegnati ho avuto un'operazione per l'accorciamento del pene quindi sono stato stavo facendo un discorso sei fin per cortesia che non ci non ci non ci crede nessuno non ci crede nessuno manco si e paghi la gente per commentare ci credo non ci crede nessuno detto questo abbiamo avuto un po di cosa siamo stati impegnati finché non abbiamo visto insomma che tra tutti i vari impegni riusciamo a ricavare una finestra di tempo diciamo quantomeno minima per poter tornare a gestire il nostro canale ovviamente non sarà come prima non ci saranno tanti video al giorno ma diciamo che al momento puntiamo sul target di due settimana poi riusciamo a fare di più ben venga ma anche se di meno no abbiamo scelto un momento proprio di merda per rientrare per il casino che sta succedendo devo dire che è infatti il casino che sta succedendo subito ma noi non ci riguarda perché personalmente se qualcuno me le si qualcuna me le esce su whatsapp me lo tengo per me anche perché se lo se la spuntano in giro poi non me le esce più e sarei doppiamente deficiente con il caso quindi lasciamo perdere questa cosa facciamoci invece se uno me lo esce su whatsapp a maggior ragione non lo dico perché perché che cazzo cioè me l'hanno uscito e soprattutto che che cazzo ti hanno uscito capito quale cazzo ti è uscito abbiamo preso il nuovo world speriamo di farci dei video sopra visto che il video su world sarà uno dei video che è andato meglio di tutto il canale fatto è che il nuovo come al solito ci giocano tre gatti e di cui due siamo io finito sicuramente io sono i cani e questo ho detto io allora uno dei giochi che sicuramente vi porteremo sicuramente vi porteremo di questo possiamo essere sicuri si chiama no 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 come no non lo dici come no perché è un segreto un segreto scusa metti che uno ci dobbiamo mettere ai fanno questo come noi noi siamo come quelli dice sono come sean marra e dobbiamo mettere live su robe che non ci sono così ci prendiamo di più oddio potrei aver lanciato un avversario in porto siamo entrati in un nuovo gruppo di partner che si chiama condo frido si chiama frido e sei anche veramente frido anche se quello che lo sponsorizza mi pare posseduto dal demonio però va bene è un po che io sempre con gli occhi spiffati e sorridente si fa l'ultimo che ho visto per le canne no no le canne uno lo vede molto più in giudizio intanto parlando di canne volevo salutare colaro ciao diciamo che più avanti abbiamo anche in mente di fare un contest dove come l'ultimo contest che abbiamo fatto regaliamo giochi regaliamo prestazioni sessuali non si possono regalare altrimenti bingo avrebbe dato tranquillamente il culo io personalmente spero momento serietà delle sostanzioni personalmente spero che questa allontananza dal tubo non ci ha fatto veramente allontanare da tutti i nostri pedili scritti e che fedeli adepti essi possano ritornare segano a a seguirci ea far parte dell'esercito degli scoppiati l'esercito che eserci per il momento nel momento una setta il momento è una banda poi più avanti no è una setta ma è anche una otta non c'entra niente da c'è stata una no ma io non posso fare video con uno che fa ste battute di merda ma lo sai che sono triste sei triste lasciate un mi piaccio se non vi è piaciuto faremo meglio la prossima volta che mi butta via dalla palla per fare cosa insomma cosa dire lasciate cosa dire iscrivetevi al canale condividete il video su facebook per aiutare il nostro canale a crescere e se vi vergognate a condividere su facebook perché poi i vostri amici mi dicono ma che guardi video di questi coglioni fate una cosa cambiate amici se volete nei commenti potete anche chiedere di essere salutati nel prossimo video vi saluteremo in maniera molto love you e love me quindi se è una cosa da gay ci penserà pingu la smetti allora facciamo il primo ultima volta qui nessuno è gay nessuno fa né pingu come ha segnato il pingu che ho segnato io adesso la partita è finita così anche la nostra vita anche il nostro blog no la vita no arcatrò è più allora anche il nostro blog quindi noi vi salutiamo con un bel rutto era meglio il suo in effetti sì lo devo ammettere basta ci rivediamo con i prossimi video che verranno se verranno sempre che non moriamo ma c'è la partita andiamo a vedere l'italia forza azzurri basta ma la smetti di fare il deficiente ogni po' di ciao e basta come all'inizio all'inizio è saluto in maniera diversa ciao sul finale come vuoi salutare asco blumbo asco blumbo